come costruire un ascensore funzionante e trasparente su minecraft ecco quello che vedremo oggi in questo video hai capito bene un ascensore funzionante e trasparente su minecraft come quello che stai vedendo a video ora la sigla del canale e di saluti a fine video ciao sono Marco Vigelini se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina in questo modo non perderai i miei prossimi video apriamo la cassa e vediamo gli oggetti che ci servono per costruire il nostro ascensore trasparente e funzionante allora vetro distributore blocco di magma sabbia delle anime poi un blocco di mattoni di pietra della pietra rossa un pulsante di quercia un pistone e mi fermo qui poi ci servirà un tappeto verde un blocco di pietra rossa in segna di bedulla secchio d'acqua e tanti secchi di vuoti per quanti sono i nostri piani iniziamo nella costruzione allora individuiamo la zona dove dobbiamo costruire il nostro futuro ascensore e incominciamo a creare la base per il suo funzionamento meccanico allora faccio due buchi mettiamo la sabbia delle anime da un lato mettiamo il blocco di magma da quell'altro poi facciamo due ulteriori buchi uno e due quello è il terzo in verità poi da questo lato mettiamo un pistone mentre da quest'altro lato lo mettiamo in questo punto poi cosa dobbiamo fare? facciamo un buco ed un altro buco un buco ed un altro buco vicino ai due pistoni a questo punto mettiamo della pietra rossa qui uno, due uno, due qua sopra mettiamo dei mattoni di pietra uno e due e incominciamo a vederne il funzionamento qua mettiamo dei pulsanti io mi metto in alto quando clicco questo il pistone a sinistra spinge i due blocchi al centro quindi in questa zona avremo il blocco di magma quando clicco l'altro pulsante il secondo pistone, quello a destra mi riporterà la sabbia delle anime quindi questo è il pulsante per salire e questo è il pulsante per scendere costruiamo la nostra struttura nuovamente i mattoni di pietra li mettiamo uno in questo punto uno in quest'altro punto poi con i blocchi di vetro incominciamo a costruirne a posizionarne tanti quanto saranno i nostri piani io ne ho fatti dieci quindi uno due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto nove e dieci uno, due, tre, quattro, tre, quattro, nove e saranno dieci perfetto poi in questo punto dobbiamo mettere un distributore e salire per fare prima ne metto dieci blocchi temporanei alle spalle il nostro pistone ovviamente dovrebbe avere vediamo se l'ho preso penso di no dovrebbe avere i dieci secchi a disposizione quindi possiamo fare in questo modo mettere i vari distributori uno sopra l'altro poi per ogni distributore tasto destro e mettere un soltanto secchio io preferisco fare così ok cosa faccio? mi metto sul distributore per esempio anzi faccio così così e lo butto e non mi serve più guardo il distributore con il tasto centrale della rotella guardo il distributore premo e sto premendo anche il tasto control della mia tastiera clicco e praticamente mi crea un clone del distributore così io riesco a posizionare quelli diciamo sopra in maniera più veloce ovviamente chi ha console, pocket edition o quant'altro deve posizionare quello che diciamo vuoto con i dieci secchi mi piaceva farvi vedere questa soluzione a questo punto andiamo avanti ok andiamo a creare almeno la nostra struttura e poi perfezioniamola prendiamo nuovamente i blocchi di vetro e li posizioniamo tutti di fronte al nostro distributore in questo modo ok da lasciare questo spazio poi sinistra e destra lasciamo la nostra entrata qui posizioneremo l'acqua non prima però di aver messo gli ultimi oggetti che ci servono questi non ci dovrebbero servire quasi più non lo so vediamo in segna di betulla la posizioniamo in questo modo in modo tale che l'acqua non fuoriesca ma ci permetta almeno a noi di entrare a questo punto possiamo incominciare a posizionare la nostra acqua prendiamo allora l'acqua e vediamo se la nostra struttura almeno funziona ci mettiamo a guardare questo blocco di vetro posizioniamo la nostra acqua che incomincia a scendere fino in basso quando incominciamo a cliccare il tutto ok vediamo che il nostro meccanismo funziona nei due modi ovviamente l'acqua ancora non è trasparente l'andremo a vedere tra poco adesso vediamo se per esempio mettendo la sabbia delle anime questa ci porta in effetti su perfetto insomma qualcosa sta funzionando ora il prossimo step è quello di attivare i vari distributori e noi lì andiamo ad attivare con il blocco di vetro rosso mi prendo anche il tappeto verde perché prima o poi ci servirà allora praticamente dall'alto verso il basso senza saltare un alcun distributore dobbiamo andare ad attivarli e mettiamo il blocco di pietra rossa guardate cosa succede ok è un glitch di di questa versione quindi sta funzionando questa versione trasparente che toglie l'acqua ma rimane l'effetto delle bottigine e soprattutto diciamo la funzionalità dell'acqua perché è un glitch di Minecraft io ovviamente entro dentro magicamente e in modo trasparente sta funzionando diciamo che fino a quando non correggono questo errore noi possiamo utilizzare questa soluzione quando lo correggeranno ovviamente significa soltanto rimettere l'acqua ma tutto il funzionamento sarà uguale a questo punto se vogliamo rimuovere se vogliamo rimuovere i vari distributori dobbiamo farlo con il pistone e dobbiamo farlo spingendo ovviamente il tutto vediamo un po' se lo faccio così forse riesco a fare anche prima perché se distruggessimo e posizionassimo il il vetro al posto del distributore questo andrebbe a annullare l'effetto di trasparenza e non funzionerebbe più quindi andiamo a mettere i nostri pistoni che spingono il 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 vetro al posto del distributore ok possiamo farlo anche in questo caso in qualunque ordine ok facciamolo così casuale fatto questo andiamo a rimuovere tutti i blocchi che non ci servono ho fatto un buco in più e andiamo a testare se funziona il tutto poi andremo a completare altre cose vediamo rimasto questo qui questo andiamo giù vediamo se riesco a distruggere involontariamente qualcosa ok nostro ascensore metto così via il nostro ascensore sta continuando a funzionare non si vede l'acqua è tutto trasparente perfetto andiamo avanti ora concentriamoci sulla meccanica diciamo elettrica che ci dovrà permettere di scendere quando noi personaggio siamo lì in alto allora cosa dobbiamo fare una sorta di l in questo modo e anche da quest'altro pistone 1 2 e 3 poi questo blocco lo mettiamo a terra questo in questo modo e poi andiamo su ok fino a questo punto ma mi sa che sono andato anche troppo in alto poi stessa cosa per questo e poi incominciamo a distruggerli in maniera alternata quindi abbiamo detto quello a terra quindi questo è bucato 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 ok sto alternando perché andremo a posizionare la nostra pietra rossa questo secondo me non ci serve dovremo arrivare esattamente qui quindi andiamo a riprodurre la stessa cosa quindi questo qui questo su andiamo su fino dove ci fa comodo in velocità così e poi continuiamo allora questo c'è questo pure questo no e andiamo alternati fino in alto ok questo pure non ci serve e adesso siamo pronti a costruire la parte elettrica della struttura in alto accediamo al nostro inventario sostituiamo per esempio questi blocchi con sicuramente la pietra rossa il pulsante già ce lo abbiamo a questo punto andiamo in alto e incominciamo a costruire quest'altra struttura con il blocco di vetro quindi mi sono posizionato alle spalle della nostra struttura e facciamo uno e poi due stessa cosa dall'altro lato uno e due in questi due punti metteremo i nostri pulsanti uno e due e poi incominciamo a scendere con la nostra pietra rossa mettendola su tutti i blocchi che abbiamo lasciato alternativamente disponibili poi quando siamo qui facciamoli arrivare al pistone poi possiamo farlo ovviamente in salida quindi questo 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 ovviamente vedete con la bedrock è possibile portare su il segnale in maniera facile ok a questo punto quindi questo cosa avevamo detto questo ci permette di scendere ok questo di salire a questo punto lo testiamo aspettate che stavo volando sono salito vediamo un po' questo qua dovrebbe farci scendere vediamo un po' sebbio allora facciamoci una bella struttura d'appoggio così possiamo anche farci una bella passeggiata questo ovviamente poi sta alla vostra creatività utilizzare questa struttura allora adesso io clicco qui e dovrei e dovrei scendere e sono sceso in effetti sono sceso così salgo via sono salito così prendo e scendo perfetto perfetto a questo punto se siete in compagnia qualcuno lo potete far salire e magari se voi state in basso potete anche aiutarlo a farlo scendere pulsante e salgo sopra secondo pulsante e scendo giù comodo no? se non sei iscritto al canale fallo adesso cliccando sulla campanellina ed attivando tutte le notifiche poi commenta e metti mi piace al video ma solo se ti è piaciuto e infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco mentre saluto Aurora e Caris che mi hanno chiesto di essere salutate e lo sto facendo in questo momento ciao grazie a tutti Grazie a tutti.